Marco Albarello, competition manager della Coppa del Mondo di Sci di Fondo di Cogne. Com'è stata questa esperienza? Questi due giorni sono stati più o meno intensi dei cinque mesi che hanno preceduto la Coppa. L'intensità la verifichiamo poi quando mi ralasserò dopo queste due giornate. Sono state giornate fantastiche, un successo di pubblico inimmaginabile. Il nostro competition manager, un mio ex atleta della Fiesta internazionale, ha detto che Cogne è entrata a piedi uniti con un tackle molto forte nel panorama di tutti gli sport mondiali. Abbiamo fatto una bellissima cartolina, siamo solo all'inizio di un percorso che sarà veramente grande. I primi semi quindi sono stati piantati per un futuro di Coppa del Mondo a Cogne. Deve essere una certezza Cogne perché abbiamo dimostrato di saperci fare, abbiamo dimostrato di portare tantissima gente, abbiamo dimostrato il cuore e la voglia del popolo valdostano di essere presenti in questi avvenimenti, ma soprattutto una capacità organizzativa grandissima e una volontà di essere partecipi di grandissimi eventi. Su cosa c'è da migliorare secondo te? Se c'è qualcosa da migliorare. Tantissime cose si possono dimostrare perché la perfezione non è mai acquisita. La perfezione viene col tempo e cercando di imparare degli errori commessi. Rispetto a 13 anni fa è un'altra storia, organizzare una Coppa del Mondo. È un altro mondo, siamo cresciuti tutti, è cresciuta la FIS, è cresciuto la FIS, è cresciuto il comitato organizzatore. Era molto più facile nel 2006, però non ci fermiamo di fronte alle difficoltà e siamo sicuri che porteremo degli altri grandi successi.